Io che per chi non lo sapesse è l'unico comune del Trentino che purtroppo si è distinto per aver detto no all'accoglienza ai migranti. Noi siamo qua a dimostrare, qua in piazza non siamo molti, ma a dimostrare la vergogna che abbiamo provato come cittadini di quel comune in larga parte per quello che ha detto il proprio sindaco e che sicuramente non rappresenta la maggior parte di quello che pensano i nostri concittadini. Abbiamo cominciato a fare le prime cose tra cui distribuire una lettera a tutti i nostri cittadini e fondare un comitato che si chiama Avio Solidale. Per chi volesse noi accettiamo qualsiasi sostegno o qualsiasi lettera di opinione, email, telefonata, il nostro indirizzo email è aviosolidale.com Per cui siete benvenuti a scriverci, a appoggiare o a criticare insomma quello che faremo, ci trovate anche su Facebook con il volantino e le varie iniziative che facciamo. Stiamo cercando appunto di diffondere nel nostro comune questo volantino per far passare l'idea che non solamente noi che siamo tendenzialmente un po' più impegnati solitamente in comune ma anche chi meno di solito si sente, meno parla e meno si fa vedere in paese ha la nostra stessa idea nel appoggiare e nel stare vicini a delle persone che hanno molto più bisogno di noi. Questo lo stiamo portando avanti e cerchiamo di diffonderlo molto di più rispetto alla piccola comunità di Avio che il messaggio nonostante noi siamo pochi in una piccola cittadina deve essere universale e non vorremmo mai che quello che è passato da Avio si diffondesse negli altri comuni del Trentino. Grazie mille.